Ciao e benvenuto nella guida passo passo di LG su come pulire la vasca della tua lavatrice LG. La funzione pulizia vasca aiuta a pulire l'interno della lavatrice immergendo, lavando, risciacquando e facendo girare il cestello. Mantenere pulita la vasca della lavatrice può aiutare a ridurre al minimo la possibilità di accumuli di residui di detersivo e ammorbidente e cattivi odori. Ecco come pulire la vasca. Per prima cosa togli gli indumenti o gli oggetti che si trovano nel cestello della lavatrice e chiudi l'oblò. Quindi apri il cassetto dell'erogatore e aggiungi la polvere anticalcare allo scomparto del lavaggio manuale. Se utilizzi compresse, queste possono essere inserite direttamente nel cestello in alternativa alla polvere. Chiudi il cassetto dell'erogatore e accendi. Quindi ruota la manopola del pannello di controllo su pulizia vasca e premi il pulsante avvio barra pausa per iniziare. Al termine del ciclo di pulizia della vasca, utilizza un panno morbido per pulire la guarnizione della porta e la porta per rimuovere l'umidità. Quindi apri l'oblò della lavatrice e lascialo aperto per far asciugare completamente l'interno. Se l'interno non è completamente asciutto, può causare la formazione di cattivo odore o muffa. Ed ecco come pulire la vasca della tua lavatrice. Mantieni la tua lavatrice in funzione e senza intoppi e mantieni le prestazioni pulendo la vasca una volta al mese o più spesso se necessario. Una cura adeguata dell'elettrodomestico può prolungare la durata. Grazie per aver utilizzato le lavatrici LG.